Siamo con Rosario Pingaro, presidente di Convergenze S.p.A. per presentare un progetto molto importante ed innovativo, la Convergenze Academy. E allora vogliamo spiegare ai telespettatori di Cilento Channel in cosa consiste questo ambizioso progetto che vedrà coinvolti tanti giovani del territorio del Cilento, perché è anche un progetto patrocinato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Viano e dal Burni. Sì, speriamo che sia un progetto di successo. Noi stiamo sperimentando qualche cosa di nuovo in Convergenze che non abbiamo mai fatto, però in linea con quello che è il nostro DNA di società Benefit, quindi che ha voglia di far crescere il territorio. E qual è questo progetto? Quello di riuscire a creare un layer di formazione aggiuntivo, oltre quello che la scuola superiore riesce a garantire ai nostri ragazzi che si avvicinano alla tecnica della programmazione per poterli avvicinare al mondo del lavoro. Ecco, questo perché abbiamo difficoltà a trovare questo tipo di mano d'opera specializzata e quindi cerchiamo di rendere il mercato del lavoro un po' più effervescente da questo punto di vista. Il progetto ha avuto una gestazione particolarmente lunga, perché in realtà abbiamo comprato prima l'immobile, l'abbiamo ristrutturato, poi abbiamo fatto un contesto interno per capire nell'immobile quali attività volevamo realizzare. Alla fine è emersa questa come idea brillante per riuscire da un lato a occupare una nostra infrastruttura in maniera opportuna ed efficace, efficiente, e poi qualcosa che non fosse esclusivamente business, ma che potesse essere, indipendentemente poi dal posto di lavoro in convergenza, un motore di sviluppo sociale. Ecco, quindi abbiamo lavorato poi per definire anche un perimetro, perché non potevamo aprire all'intera regione o all'intera provincia, quindi abbiamo ritagliato il territorio a quello praticamente coincidente con il Parco del Cilento, che abbiamo cercato di coinvolgere. E devo dire che il Presidente e il Direttore sono stati estremamente sensibili a questo tipo di iniziativa, hanno dato anche un supporto economico per facilitare gli spostamenti, anche perché la struttura è a Trentinara, quindi ci saranno delle navette quotidiane che viaggeranno da Capaccio, dalla stazione ferroviaria di Capaccio, da Convergenze, fino a Trentinara in ambo le direzioni per poter facilitare gli spostamenti dei ragazzi. Trentinara perché la nostra mission di infrastrutturare le aree interne non si ferma solo alla fibra ottica, ma anche quest'immobile che abbiamo acquistato e ristrutturato è in un'area interna. Ecco, quindi cerchiamo di fare in modo che a 360 gradi la nostra attività aziendale riporti vivacità ai contesti anche non di primo piano dei nostri territori e garantiamo anche un rimborso spese se i ragazzi parteciperanno all'80% delle ore di lezione. L'idea del tipo di formazione in generale dell'Academy è di un nostro dipendente, non è un'idea mia, ma di Fabio Palladino, che è una delle colonne della nostra azienda, e lui ha dato l'imprinting del tipo di formazione, quindi molto anglosassone, molto americana, al stile alla Google per migliorare la capacità di problem solving, di self learning di questi ragazzi, quindi sono sicuro che l'esperienza sarà buona e che lascerà un buon imprinting ai ragazzi e speriamo poi anche alla fine di trovare qualche buon talento da inserire nella nostra compagine, nel nostro team, ecco, diciamo così. Quando è prevista l'apertura di questa Accademia? Guarda, le iscrizioni già ci sarà una fase di registrazione, il sito è già online, quindi invito tutti quanti gli interessati a poter andare a registrarsi. non c'è bisogno di nessuna formazione specifica, ma diciamo ci aspettiamo che i ragazzi mastichino di programmazione, almeno a livello scolastico, perché ci sarà poi una fase di selezione, logicamente, e la fase di selezione che si dovrebbe comunque concludere tra agosto e gli inizi di settembre, per poi partire con le lezioni a ottobre. La durata del corso sarà di tre mesi, quindi contiamo che a cavallo del 2022-2023 termineremmo il ciclo formativo che sarà fatto da docenti interni, docenti esterni, con dei tutor aziendali, in qualche modo anche un modo per capire un po' più da vicino che cosa fa un'azienda come Convergenze che ha nel portafoglio prodotti una quantità abbastanza rilevante di soluzioni e tecnologie. Grazie e complimenti. Siamo con la vicepresidente di Convergenze SPA per questo importante incontro in conferenza stampa dove viene presentata un'accademia innovativa che si svolgerà nell'entroterra occidentano, precisamente a Trentinara. Una sfida, dicevamo, anche col presidente. Sì, è una sfida perché appunto nell'entroterra non abbiamo queste scuole di formazione innovative e quindi abbiamo detto perché no, perché non provare, perché non provare a dare ai nostri giovani e ai giovani che sono nei nostri territori un'opportunità, un'opportunità di formazione sul campo perché vorremmo che queste settimane di formazione, sono tre mesi di formazione, siano diciamo una formazione pratica, cioè dove i giovani potranno lavorare su progetti che sceglieranno loro di fare e con questo metodo innovativo basato appunto sulle sfide. È un'opportunità che vogliamo dare ai giovani del nostro territorio proprio per farli capire che sul territorio ci sono aziende dove poi loro potranno poi mettere in pratica quello che imparano e che hanno anche bisogno, le aziende che sono sul territorio, di queste figure IT, di figure innovative che rendano le aziende che sono sul nostro territorio sempre più smart e più innovative per stare sempre al passo con i tempi. Ci tengo a dire che il percorso è completamente gratuito e che abbiamo anche pensato a una navetta che possa accompagnare i ragazzi che decideranno insomma di iscriversi e di partecipare alla nostra Academy che si svolgerà come avrà già detto anche il nostro Presidente nella nostra sede di Trentinara. Questa è una bellissima occasione, un bel esempio, cioè un'azienda che ha avuto successo un'azienda che riesce ad affermarsi sul mercato, riesce a scalare le vette prima quotate in borsa poi ad affermarsi sul mercato, però ecco che è generosa e quindi costituisce un'accademia per giovani, non dico talenti, ma per giovani che hanno voglia di innovazione, di competenza, di preparazione quindi un'azienda che non è avida, che attenta agli utili, attenta ai bilanci ma che offre anche al territorio e ai giovani soprattutto possibilità per andare avanti e per lanciare la sfida. Il caso deve dire che quando si parla tanto di progetti di valorizzazione delle aree interne ecco questo è l'esempio a 360 gradi di una grande azienda come quella di Convergenze che investe in un territorio come quello di Trentinara che è comunque un territorio interno. Assolutamente sì e questo è un valore aggiunto, è un merito ulteriore che va a Convergenze tra l'altro sta realizzando anche su altri comuni dell'entroterra ma si sta espandendo in tutto il territorio nazionale quindi ne siamo davvero tutti fieri e orgogliosi e ha fatto un plauso a questa azienda che cresce ma che fa crescere il territorio, che investe sul territorio, ha investito ripeto anni fa su Trentinara non so quanti altri l'avrebbero fatto quindi davvero un grazie al presidente Pingora, a tutta la squadra insomma a tutta la squadra perché poi quando un'azienda così importante cresce sicuramente merito, il primo merito va al presidente ma va sicuramente all'intera squadra, i dipendenti tutti insomma che lavorano davvero con grande, li vedo anche per strada, i nostri territori con grande umanità con grande allegria, con grande partecipazione, questo si vede che c'è una bella squadra che lavora e che lavora bene io davvero sono felice di questa attenzione che da sempre Convergenza ha per il nostro territorio e c'è una collaborazione importante che continuerà sicuramente per la crescita dei nostri territori Sono molto contento innanzitutto di aver visitato una bella realtà del nostro territorio un'azienda vitale, viva, un'azienda che mette in campo tante professionalità, tante competenze soprattutto vedo tanti giovani e oggi fare formazione significa andare verso quella direzione che più volte noi abbiamo auspicato come parco, cioè quello di fare in modo che il territorio uno dei territori più belli del mondo perché continuo a dirlo, il Parco Nazionale del Cilento, Faradona del Burni è uno dei territori più belli del mondo, faccia in modo che questo patrimonio diventi un'opportunità, diventa un'opportunità soprattutto per i nostri giovani e fare accademia, fare formazione nei nostri territori, per i nostri giovani io penso sia la strada giusta e noi come parco quando siamo affiancati alla realtà imprenditoriale come quella di Convergenza penso ci sentiamo anche più forti e più sicuri nel guardare con maggiore ottimismo al futuro Grazie. 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 Grazie.